Ma tu lo sai che cos'è un letto di contenzione? No, nessuno te lo ha mai detto. Hai presente un albergo, le camere di un albergo. Ne puoi scegliere di diversi tipi, doppia, singola, matrimoniale. Hai poi la suite, quella con il letto di contenzione. Beh, un lusso per pochi, anzi pochissimi, davvero privilegianti. Madame la 207 ha vista male all'ora del tramonto. Potrà così godere di un emozionante spettacolo direttamente dal suo letto di contenzione. Che fa la prova? Magari con un po' di fantasia in questo albergo lo avrà capito. Noi siamo molto creativi, non badiamo spese. Cosa desidera? Un gelato con tutto questo caldo, se lo merita proprio, no? Oppure un cocktail fresco, vibrante, semmai di psicofarmaci, eh? Tanto per non pensare alle noiose abilità della vita. Altro che creatività, estro, fantasia. La contenzione è uno strumento di tortura. La contenzione è una contenzione.